ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco zan edip compressa rivestita ricordati industria chimica e farmaceutica spa ultimo aggiornamento 20 luglio 2021 cosa zan edip compressa rivestita confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere zan edip compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa zan edip compressa rivestita zan edip compressa rivestita a un farmaco a base del principio attivo l'erconidipina cloridrato appartenente alla categoria degli calcio antagonisti e nello specifico derivati di idropiridinici è commercializzato in italia dall'azienda recordati industria chimica e farmaceutica spa zan edip compressa rivestita può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni zan edip 10 mg 28 compresse rivestite informazioni commerciali sulla prescrizione titolare ricordati industria chimica e farmaceutica spa ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo l'erconidipina cloridrato gruppo terapeutico calcio antagonisti forma farmaceutica compressa rivestita indicazioni zan edip ha indicato negli adulti per il trattamento dell'ipertensione essenziale lieve moderata posologia posologia la dose raccomandata di 10 mg una volta al giorno per via orale almeno 15 minuti prima dei pasti la dose può essere aumentata a 20 mg in funzione della risposta individuale del paziente l'aggiustamento della dose deve essere graduale poi ca il massimo effetto antipertensivo si manifesta entro due settimane circa nel caso di pazienti non adeguatamente controllati mediante monoterapia antipertensiva a possibile associare la somministrazione di zan edipa farmaci beta bloccanti a tenololo diuretici idroclurotiazide oacea inibitori captoprilo e nalapril poi cala curva dose risposta ripida e presenta un plateau a dosi tra 20 e 30 mg è improbabile che dosi più elevate inducano una maggiore efficacia mentre per contro può verificarsi un aumento degli effetti indesiderati pazienti anziani sebbene dagli studi di farmacocinetica e dall'esperienza clinica specifica non si è emersa la necessità di modificare la dose giornaliera si raccomanda tuttavia particolare attenzione all'inizio del trattamento negli anziani popolazione pediatrica la sicurezza e l'efficacia di zan edip nei bambini fino a 18 anni di età non sono state stabilite non ci sono dati disponibili pazienti con alterazioni della funzionalità epatica o renale si raccomanda particolare cautela quando si inizia il trattamento di pazienti con disfunzioni epatiche o renali lievi moderate la posologia raccomandata risultata ben tollerata da questi pazienti tuttavia l'incremento della dose giornaliera 20 mg deve essere attentamente valutato nei pazienti con alterazione della funzionalità epatica l'effetto antipertensivo può essere aumentato e quindi bisogna considerare un aggiustamento del dosaggio il trattamento con zan edipa controindicato nei pazienti con alterazione della funzionalità epatica di grado severo o in pazienti con grave alterazione della funzionalità renale velocità di filtrazione glomirulare 30 ml barramin inclusi i pazienti sottoposti a dialisi vedere paragrafi 4 3 e 4 4 modo di somministrazione precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale il trattamento deve essere somministrato preferibilmente al mattino almeno 15 minuti prima della colazione questo prodotto non deve essere somministrato con succo di pompelmo vedere paragrafi 4 3 e 4 5 controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 ostruzione alleiazione ventricolare sinistra insufficienza cardiaca con gestizia non trattata angina pectoris instabile o recente da meno di un mese infarto cardiaco alterazioni della funzionalità epatica di grado severo alterazione della funzionalità renale di grado severo gfr 30 ml barramin inclusi i pazienti sottoposti a dialisi trattamento concomitante con potenti inibitori di chip 3 a 4 vedere paragrafo 4 5 ciclosporina vedere paragrafo 4 5 pompelmo succo di pompelmo vedere paragrafo 4 5 avvertenze speciali e precauzioni di impiego sindromi da disfunzione del nodo del seno l'ercani di pina deve essere somministrato con cautela in pazienti affetti da sindromi da disfunzione del nodo del seno senza un pacemaker disfunzione ventricolare sinistra vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione controindicazioni per l'uso concomitante inibitori di chip 3 a 4 poica copyright l'ercani di pina viene metabolizzata dall'enzima chip 3 a 4 inibitori del chip 3 a 4 somministrati contemporaneamente possono interagire con il metabolismo e l'eliminazione di l'ercani di pina uno studio di vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere zanedip compressa rivestita insieme ad altri farmaci come eurosaluzufa euro eurosoptivusa euro eurosatazanavir accorda euro eurosatazanavir dottor ridisa euro eurosatazanavir crca euro eurosatazanavir milana euro eurosatazanavir santozza euro eurosaurantina euro eurosaviflucox a euro euroscanacida euro euroscarbamazepina ega euro eurosclamodina euro eurosclaritrol a euro eurosclaritromicina accorda euro eurosclaritromicina almusa euro eurosclaritromicina altana euro eurosclaritromicina altera euro eurosclaritromicina docgeneric a euro eurosclaritromicina dottor ridisa euro eurosclaritromicina e g compressa rivestita euro a eurosclari seriously euro a eurosclari 8 8 9 euro split home i china russia a euro, a euro sclaritromicina icma a euro, a euro sclaritromicina milan generics a euro, a euro sclaritromicina pensa a euro, a euro sclaritromicina sandozza a euro, a euro sclaritromicina sandoz gmbh, granulato a euro, a euro sclaritromicina san, granulato a euro, a euro sclaritromicina san farma a euro, a euro sclaritromicina teva a euro, a euro sclaritromicina zentiva a euro, a euro sclarmaca a euro, a euro scrinozola a euro, a euro sdacterin, capsula molle a euro, a EUROS d'Actarin, crema a euro, a EUROS d'Actarin dermatologico a euro, a EUROS d'Actarin, gel a euro, a EUROS d'Arona vir Accord, compresse rivestite a euro, a EUROS d'Arona vir Ourobindo, compresse rivestite a euro, a EUROS d'Arona vir Dr. Redis, compresse rivestite a euro, a EUROS d'Arona vir Ega a euro, a EUROS d'Arona vir Crca, compresse rivestite a euro, a EUROS d'Arona vir Milan, compresse rivestite a euro, a EUROS d'Arona vir Sandoz, compresse rivestite a euro, a EUROS d'Arona vir Teva a euro, a EUROS d'Arona vir Zentiva, compresse rivestite a euro, a euros decoderma a euro, a euros di flucan, capsula a euro, a euros di flucan, capsula, soluzione, uso interno, a euro, a euros di flucan, polvere a euro, a euros dintuina a euro, a euros dintuina a euro, a euros di zolo a euro, a euros elazzora a euro, a euros eritromicina id, crema, soluzione a euro, a euros eritromicina id, gel a euro, a euros eritromicina latto bionato fisiopharma a euro, a euros evotazza a euro, a euros exumax a euro, a euros fenitoina icma a euro, a euro sflu con a zolo abca euro, a euro sflu con a zolo accorda euro, a euro sflu con a zolo almusa euro, a euro sflu con a zolo eurobindo euro, a euro sflu con a zolo bioindustrial.i.m.euro, a euro sflu con a zolo docgeneric a euro, a euro sflu con a zolo galenica senese a euro, a euro sflu con a zolo excel a euro, a euro sflu con a zolo icma a euro, a euro sflu con a zolo cabia euro, a euro sflu con a zolo milan a euro, a euro sflu con a zolo pensa a euro, a euro sflu con azzolo ratio farm a euro, a euro sflu con azzolo sanduza a euro, a euro sflu con azzolo sun a euro, a euro sflu con azzolo zentiva a euro, a euro sflu con stenola a euro, a euro sflu chi me che sa euro, a euro sflu mi con a euro, a euro sflu mus a euro, a euro sflu res a euro, a euro sfungus a euro, a euro sgami beta complex a euro, a euros gardinale a euro, a euros gemiflu che sa euro, a euro simbirase a euro, a euro si traccon azzolo doc generica a euro, a euro si traccon azzolo ega a euro, a euro si traccon azzolo milan generica a euro, a euro si traccon azzolo milan generica a euro, Citra con azzolo sandozza a euro, a euro citra con azzolo te va a euro, a euro citra germa a euro, a euro scaletra, compresse rivestite a euro, a euro scaletra, soluzione a euro, a euro schetto con azzolera a euro, a euro schetto non va a euro, a euro sclacid, compressa rivestita, granulato a euro, a euro sclacid, granulato a euro, a euro sclacid, polvere a euro, a euro sclaciderma a euro, a euro sclure nissa a euro, a euro sclure nissa a euro, a euro scluclera a euro, a euro slauromicina, compressa a euro, a euro slauromicina, ungo in euro a euros le funziona euro a euros l'opinavir ritorna vi raccorda euro a euros l'opinavir ritorna vir milana euro a euros l'uramica euro a euros lo candiola euro a euros luminale compressa euro a euros macladeen compressa rivestita euro a euros macladeen compressa rivestita granulato a euro a euros macladeen granulato a euro a euros macladeen polvere a euro a euros miconal crema a euro a euros miconal crema polvere a euro a euros miconal lavaggio barra banglia euro a euros miconal ovulo a euro, a euro smicolics a euro, a euro smicotef, crema a euro, a euro smicotef, crema, ovulo a euro, a euro smicotef, gel a euro, a euro smicotef, soluzione a euro, a euro smuques a euro, a euro smi solidi a euro, a euro snizzacola a euro, a euro snizzoblu a euro, a euro snizzoral, crema a euro, a euro snizzoral, shampoo a euro, a euro snoxafil, compressa gastro resistente a euro, a euro snoxafil, sospensione a euro, a euro sposa con azzolo a corda a euro, a euro sposa con azzolo a a euro sposa con lazoldo e ga euro a euro sposa con az pólo euro generici a euro a euro sposa con azoto fresenio scage a euro aspo tipo se conoscono mila Farm a euro a euro sposa con hazoldo Milan a euro observosa con azolos Studios euro a euro sposa con azuolo te v a euro a euro spruzzi sta compressa euro a euro spruzzi sta sospensioni a euro euro Sprilagen crema immulsioni a e se euro pegasus prima αυτό crasha euro a EUROS RAE TAS Thanks capsula euro tai water results A EUROS A EURO, A EUROS 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 A EUR capsula euro orchestradipare in soluzione a euro a euro stream icosa euro a euro spam compressa rivestita euro a euro spam compression rivestita granulato a euro a euro sweat lamb granulato a euro a euro verklam polvere a euro a euro spend compressa rivestita euro a euro spend polvere a euro euro svoricon a zolo a corda a euro rer ros fuori con hazzo se per euro non boats volano robot in do a euro se per il장enziale a euro chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute la stessa gravidanza gravidanza non ci sono dati sull'impiego di l'erconidipina in gravidanza studi effettuati negli animali non hanno evidenziato un effetto teratogeno vedere paragrafo 53 tuttavia sono stati osservati con altri composti vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari l'erconi di pina altera lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari pertanto corre cautela in quanto possono presentarsi capogiri astenia senso di affaticamento e chiaramente sonnolenza effetti indesiderati riassunto del profilo di sicurezza la sicurezza di l'erconi di pina la dose di 10 20 mg una volta al giorno ha stata valutata in studi clinici in doppio cieco controllati verso placebo vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio nell'esperienza post marketing di l'erconi di pina sono stati riportati alcuni casi di sovradosaggio con un intervallo da 30 40 mg fino a 800 mg incluse segnalazioni di tentativo di suicidio sintomi analogamente alle altre di idropiridine un sovradosaggio di l'erconi di l'erconi di pina induce una eccessiva vasodilatazione periferica associata ad ipotensione significativa e tachicardia riflessa comunque a dosaggi molto alti la selettività periferica può essere persa causando bradicardia e un effetto inotropo negativo le pia comuni reazioni avverse associate a casi di overdose sono state ipotensione capogiri mal di testa e palpitazioni trattamento l'ipotensione clinicamente significativa richiede un supporto cardiovascolare attivo che include il monitoraggio frequente della funzione cardiaca e respiratoria il sollevamento degli arti e l'attenzione al volume del fluido circolante e alla produzione di urina visto l'effetto farmacologico prolungato di l'erconi di pina a essenziale monitorare per almeno 24 ore la funzione cardiovascolare del paziente poiché a copyright il prodotto ha un elevato legame proteico la dialisi probabilmente non ha efficace i pazienti nei quali ci si aspetta un'intossicazione da moderata a grave devono essere tenuti in osservazione in ospedale proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica calcio antagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare a euro derivati di idropiridinici codice atc c 0 8 k 13 meccanismo d'azione l'erconi di pina a un calcio antagonista appartenente al gruppo delle idropiridine che inibisce il flusso del proprietà farmacocinetiche assorbimento zanedit viene completamente assorbito dopo una somministrazione orale di 10 20 mg e picchi plasmatici rispettivamente di 330 ng barra ml a più meno 209 ds e 7,66 ng barra ml a più meno 5,90 ds si raggiungono dati preclinici di sicurezza i dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety farmacologi tossicità a dosi ripetute genotossicità potenziale cancerogeno tossicità della riproduzione gli studi farmacotossicologici elenco degli eccipienti nucleo della compressa lattosio monoidrato cellulosa microcristallina sodio carbossimetilamido povidone k 30 magnesio stiarato film di rivestimento ipromellosa talco titanio di ossido e 171 macrogol 6000 ferro ossido e 172 farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di zanedi compressa rivestita a base di l'erconidipina cloridrato sono cardiovasc compressa rivestita l'ercadip compressa rivestita l'erconidipina eurobindo l'erconidipina doc generici l'erconidipina e g l'erconidipina milan l'erconidipina radio farmitalia l'erconidipina sandoz l'erconidipina sun l'erconidipina technigen l'erconidipina zentiva l'isitens Nigi Press, fonte, foglietto illustrativo, AIFA, agenzia italiana del farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, agenzia italiana del farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la farmamaxt sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato. Grazie